Conferiamo a Marco Pannella la laurea magistrale onoris causa in scienze della comunicazione. Teramo dalla residenza 20 febbraio 2015. Il rapporto tra la città di Teramo e Marco Pannella è stato da sempre controverso. Negli anni 70 e 80, quando in città la balena bianca della DC la faceva da padrona, Pannella era visto e additato sempre come il figlio degenere, lo scapestrato della famiglia, quello che era un cattivo esempio per tutti. Ci sono voluti decenni e gli 85 anni del leader radicale perché Teramo finalmente gli riconoscesse quel ruolo di leader politico che lui da sempre ha avuto. A dire il vero è già da qualche anno che la sua città gli strizzava l'occhio e lui che negli anni passati centellinava le sue visite al paese natio le ha intensificate e amate sempre di più. La consegna della laurea honoris causa in scienze della comunicazione è stata la certificazione che Teramo da oggi ha il suo figlio più nobile, quello che la città riconosce come uno degli ambasciatori della teramanità in Italia e forse anche nel mondo. Così ci sarà la riprova che questo è un atto di generosità un po' temeraria perché invece proprio no, ci stanno in deloca. Non è una forma anche di chiesta di scuse da parte di Teramo nei confronti di Marco Pannella? Perché? Perché forse questa città per lei ha fatto poco. Come? Mi ha fatto nascere, ma guarda questo! Io credo che sia un atto dovuto per i meriti di Marco Pannella, è un atto voluto, fortemente voluto dall'Ateneo, da laurea e sui meriti di Marco Pannella per la comunicazione. Ma l'Ateneo vuole riconoscere anche tutte le battaglie che Marco Pannella ha combattuto e continua a combattere che hanno fatto sì che la società oggi sia un po' migliore di come è. Io ne sono molto lieto e felice perché devo dire che l'università in due o tre anni è cresciuta assai perché proprio tre anni fa ancora... Si sta commuovendo? Guai a parlare di Pannella e far parlare Pannella tre anni fa, l'ascurdo. Anzi, è una madonna! Un comunicatore nato, dunque, e la stranezza o l'unicità di questo sta nel fatto che lui ha comunicato più quando non ha parlato che quando lo ha fatto. Il 18 maggio del 1978, durante una tribuna elettorale, rimase imbavagliato per 25 minuti davanti alla telecamera con altri componenti del partito, tra i quali Emma Bonino. E poi gli scioperi della fame e della sete che hanno caratterizzato le sue proteste e la sua vita. tanto che oggi Gianni Letta, nel rendergli omaggio, gli ha detto quante ne hai dette, ma soprattutto quante ne hai fatte, e lui si è commosso. Una debolezza, segno degli anni che passano, ma anche di quel riconoscimento che la sua città gli ha voluto finalmente tributare. Grazie. Grazie. Grazie.